Fumata grigia per il passaggio delle consegne in casa Gelbison, l'attesa assemblea ordinaria dei soci che doveva sancire l'ingresso al vertice del club di un nuovo gruppo dirigente, ha subito uno slittamento e se ne riparlerà venerdì 29 con inizio alle ore 18. I lavori sono stati aperti dalla relazione del presidente uscente Antonello Mainente e da quella del direttivo. Entrambe si sono soffermate sul lavoro svolto nel corso del loro esercizio durato tre stagioni. Inoltre sono state ribadite le dimissioni del gruppo dirigente, tra l'altro già presentate lo scorso dicembre. Poi la seduta è stata sospesa e aggiornata su richiesta pervenuta da due cordate intenzionate a subentrare nella gestione del club Rosso Blu di Vallo della Lucania. In particolare a chiedere qualche giorno in più sono stati l'imprenditrice di Casalvelino Enza Lista e l'avvocato Vallese Ottavio Dei Politis. La prima aveva già formulato la richiesta di rinviare i lavori alla vigilia dell'assemblea. Dinanzi a queste sollecitazioni, ha detto il presidente Mainente, per favorire le scelte di entrambe le cordate di presentarsi alla prossima assemblea con un proprio organico societario, abbiamo ritenuto opportuno rinviare solo di qualche giorno la nostra decisione. Un ruolo importante nelle trattative tra i dirigenti dimissionari e quelli che sono pronti a subentrare lo ha giocato l'amministrazione comunale, che ha propiziato questi incontri con l'obiettivo di favorire per la Gelbison un futuro solido e la permanenza in serie D. Grazie. 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 Grazie.